Maratea ospiterà l'edizione 2017 del corso Euro Mediterraneo di giornalismo ambientale Laura Conti. C'è tempo fino al 22 settembre per iscriversi alla sedicesima edizione del corso che si svolgerà dal 9 ottobre al 17 novembre prossimi. L'iniziativa è aperta al numero massimo di 20 studenti, giornalisti, professionisti o pubblicisti italiani e stranieri provenienti da paesi appartenenti all'area del Mediterraneo, ai quali è offerta la possibilità di ottenere i crediti formativi richiesti dall'ordine dei giornalisti ai fini della formazione continua obbligatoria. Il corso però è aperto anche a laureati o diplomati interessati a conoscenze di base e tecniche dell'informazione ambientale e della comunicazione pubblica, previste 20 borse di studio integrali a copertura delle spese di iscrizione e di vite alloggio. Il corso è organizzato da Lega Ambiente in collaborazione con la Regione Basilicata ed editoriale La Nuova Ecologia e in partenariato con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, il Laura Conti ha ricevuto il patrocinio del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Comune di Maratea, della Fondazione Matera 2019, di Chioto Club, Federparchi, Resm4Med, Enea e della Federazione Italiana Medi Ambientali. Il percorso formativo residenziale a tempo pieno dura sei settimane e prevede 220 ore di lezione tra teoria e pratica, in programma laboratori e workshop di una settimana in cui si producono servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le risorse e le opportunità di sviluppo dell'area e poi degustazioni di prodotti tipici e visite guidate nel territorio della Basilicata. Le lezioni si svolgeranno da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30. Ogni studente lavorerà all'interno di un laboratorio redazionale e redigerà articoli finalizzati anche alla pubblicazione di uno speciale del mensile La Nuova Ecologia. Al termine, ogni studente riceverà un attestato di partecipazione e di valutazione, oltre al materiale didattico. Alla fine del corso, inoltre, sarà possibile partecipare a stage presso testate giornalistiche, agenzie e uffici stampa. Grazie a tutti.